allora ragazzi qua momento non lo so è un momento uuuuh ragazzo mio ma è vero può tenere un dubbio è un porcino vero è solamente un'allucinazione mamma mia ragazza che meraviglia ragazzi qua probabilmente è un miraggio questo guardate cosa dite è un miraggio sicuramente questo è un miraggio non mi ricordo di aver mai trovato un porcino di una bellezza eleganza simile questo è stato disegnato col compasso ma niente ragazzi beh qua direi aiuto guardate guardate che meraviglia è finto guardate è finto non smetto più di riprendere c'è anche un fratello che vediamo aiuto mamma mia siamo nel paradiso paradiso dei porcini il paradiso dei porcini vediamo qua ragazzi momento magico oh mamma mia non ci credo non ci credo ragazzi no nooo beh io non ho un aggettivo appropriato per questo porcino ce ne deve diventare ragazzi un aggettivo assolutamente mamma mia ricchi non ci credi ragazzi qua un momento meraviglioso mi stanno tremando le pomme questo cos'è uuuuh bellissimo questo fratellino qui cerchiamo perchè ce n'è uno qua che è di una bellezza ragazzi guardate guardate non vedo l'ora di riprendere guardate uuuuh mamma mia guarda guarda che meraviglioso una bellezza ragazzi e poi ce ne è un altro sopra che andiamo a prendere andiamo a prendere in velocità andiamo a prendere dove 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 signora 1 eccolo qua mamma mia che meraviglia andiamo a fare il quadretto insieme ah c'è anche il quadretto questo lo lasciamo mamma mia che meraviglia che spettacolo che spettacolo che roba che roba è rimasto senza parole guardate senza parole guardate guardate il bosco molto molto in alto faccio chiaramente guardate mamma mia sono pronti sono pronti mi è venuta la pellicola guardate nooo ma dai ma come è possibile trovare dei funghi così belli guardate mamma mia che spettacolo madonna senza parole senza parole senza parole senza parole spettacolo e il bianco vogliamo parlare di questo coloro ma sei uno spettacolo della natura guarda che eleganza poi c'è un altro ti hai visto ancora? aspetta mi sposto qua ecco si vede si vede vediamo questo per me questo è meraviglioso sentite come è durissimo se vuoi toccare come si vede il bianco il bianco è vero il bianco c'è un altro capolavoro un altro capolavoro assolutamente arte allo stato puro mamma mia ragazzo ma come sei bello ma come sei bello il bosco, guardate ragazzi il bosco meraviglioso il faggio abbastanza in alto madonna il 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 il